«Questo è un monologo, parla Rimbaud, che invece di limitarsi alle vocali questa volta fa tutto l'alfabeto. Leggerò la lettera L, la V e la Z. L come lettore, ecolalia lancinante di un pazzo che rimugine di ozie per non rimanere da solo in silenzio. Sostiene il caro collega Mallarmé che la poesia sia certo un mistero di cui il lettore deve cercare la chiave. Difficile comprendermi, ancor di più sopportarmi nella pretesa che il lettore ha sempre di ritrovare una significazione assoluta e universale in ciò che scrivo, in forma di idee cartesiane, chiare e distinte, come un bicchiere d'acqua da bere, significazione che in realtà è sempre e solo la sua. Ma la poesia, in fase di lettura e dunque di interpretazione categoriale e semantica, non è mai chiara, non è mai distinta, anzi è una bolgia infernale di significazioni che si originano dal ventre obeso di sensi arbitrarie e mai ultimati, che non partecipano del principio di determinazione della sfera scientifica, l'univocità. Eppure la letteratura è e deve essere la suprema forma di comunicazione, ovvero deve poter essere compresa, ma in un unico modo. In quanto pura forma, essa escevra da qualsiasi contenuto fissato una volta per tutte. Ciò che in essa permane come universalmente comunicabile non è il contenuto, che si affida alla multiforme interpretazione ed è per questo lungi dall'esserne la base concettuale, il coacervo materiale dell'opera, bensì la forma. Sorta di idea platonica immateriale, sostrato inattingibile, neutro, evanescente, indeterminato, di cui nulla si può dire tranne che c'è e che a ogni istante cambia. Lo diceva in un passaggio altamente critico il nano panciuto di Pescasseroli? Sì, lo ammetto, la poesia è un contenitore estetico che deve essere riempito. Di cosa? Di materia prima concettuale, senza la quale la comprensione dell'arte come arte affidata al lettore non solo risulta impossibile, ma anche priva di significato concreto, estetico o logico che sia. Infatti, e qui l'obeso pontagnano si fermerebbe a riflettere, esistono due livelli di comunicazione, quello logico e quello estetico, dove il valore primigenio del secondo, non nella mente del creatore ma in quella del fruitore, non è mai scindibile dalla consistenza comprensiva del primo. Questo contenitore, chiamato poesia, è, per l'artista, nell'atto stesso del creare, come un sacco vuoto. Assume le più varie posture quando è privo della sostanza che, una volta riversata al suo interno, poi lo permea come un guanto. Ma la percezione del sacco, quando è pieno, è sempre e solo parziale. È un sacco pieno di quella determinata sostanza solo di volta in volta, per me, per te, per lui, e per chiunque altro in modo diverso. Così, la funzione interpretativa del lettore somiglia a un abbaglio allucinatorio, che non riesce mai a identificare la realtà mentale del poeta, di ciò che egli vede una volta per tutte. Una parola è soltanto una parola. È un sistema aperto centrifugo, che non significa altro da sé, e significando tautologicamente soltanto se stessa, rimane vuota del contenuto definitorio e definitivo, perché, nella mente del creatore, nel momento esatto della creazione, non rimanda ad altro che a se stessa. Quando il poeta scrive, crea una vuotezza di senso, dal luogo al nulla, che a ben vedere non è che sia un non senso, bensì è un senso senza un qualche riempimento che non sia altro da sé, e se non c'è altro da sé, è come se questo senso definito non ci fosse affatto. Compito del lettore è, per l'appunto, riempire la parola di questo senso in perpetua fuga e illazione. Mai ultimo, in eterno e faticoso fieri, in universale e diacronica trasformazione, a seconda del livello di comprendonio e di attitudine interpretativa. La poesia è un buco nero, che basta illuminare con la lampadina dell'aula di una quinta elementare. Non occorrono lauree in lettere o in filosofia per leggere una poesia. Il contenuto di cui il più grande critico letterario del mondo riempie il sacco vuoto, nella primigenia fase interpretativa della lettura, ovvero prima di scriverne alcunché, ha dignità pari a quello di un bambino che legge per la prima volta un verso, perché a fronte di un evidente contenuto interpretativo diverso, insomma del diverso peso del sacco, una volta riempito, l'infinita leggerezza del processo formale da cui si origina l'atto creativo che essi colgono è lo stesso. V come volontà, V come vuoto. Vibratile effrazione di violenze arcane che sottomettono parole ed emozioni, scardinanti i portali reclusi di nostri più oscuri recessi, di pensieri e sensazioni pettinate con la riga in mezzo, dei ranti avverso sciolto oppure ricondotte all'ordine teneprofugo della rima. Assenza di materia in un volume di spazio, unità di pressione arteriosa che pigia sui pistoni della passione, io non tendo che alla conoscenza del nulla, inottenibile, flemmatica, insicura. Fluido dinamica cerebrale vuoto a rendere la cauzione cosmica della creatività, la costante lambda del nostro microcosmo interiore in espansione, effetto Casimir che si insinua in fluttuazione di solitudini complessate e rese impavide dalla parola tradotta in inchiostro ancestrale, quantum della mente, energia del punto zero della scrittura, soggetta a un sacrale principio di indeterminazione. I dolori del giovane Werner, natura non aborret avacuo, natura natat invacuo, lo stagirita aveva torto, lo stagirita ha perso il senno. Oscillatore armonico della penna a sfera, che sugge la sostanza di Laszlo e la chiosa in forma alfabetica perfetta, la poesia diviene ancella della filosofia. E a nulla non vè scampo se l'ispirazione è condensata nel nulla dell'assenza. Il vuoto dell'orrore ricolmo di orrore del vuoto, la parola si sfrange, si sfilaccia, si sfrigola in padella, si fraziona in disarmonia, in cupo disordine di sistema. La poesia è tutto questo ed è anche altro, e fra il questo e l'altro non esiste materia, non esiste contenuto, finché esso non venga colto, individuato, fissato e determinato dalla cieca volontà di leggere, di comprendere, di interpretare. Ma questo è, e rimane, l'immane sforzo di un altro, un altro che è questo e anche a sua volta altro, un altro che è in questo e anche a sua volta in altro. Z come zero, il grado zero della scrittura. Esiste una scrittura in quanto distinta dallo stile, dal linguaggio e dalla scrittura stessa? Se esistesse bisognerebbe inventarla, e qualcuno ci ha provato. Ma l'invenzione la renderebbe, e l'ha di fatto resa, poesia non critica, né tantomeno teoria letteraria. Io, carissimo Roland, io disintegro il linguaggio, lo conduco alla fasia, alla grafia, al mutismo completo. Eppure, quante pagine sono state scritte sui miei silenzi e sui miei vertigini? E questa fiumana di pagine trascorrenti, trasversali, che pontificano sul vuoto e sul niente, teorizzando l'immenso del silenzio? Che statuto hanno? Di quale ontologia si fanno portavoce? Che valore posseggono, oltre l'immediato mediare contenutistico della scrittura sulla scrittura? Sono poesia in forma di che cos'è, o meglio, per dirla tutta, poesia in forma di cosa. Vi saluto come miei pari, fratelli scrittori, che scrivono di altri scrittori e della scrittura stessa. Solo il lettore è un delinquente del senso, ha paura del vuoto, avverte l'urgenza di doverlo riempire. Io e voi, invece, alleati, senza alcun trauma di separazione ed abbandono, daremo luogo insieme all'opera metacronica e metamorfica, vorticando nella turba del cronotopo. Rotolando a piedi alterni, su una spirale di Escher, ci getteremo per sempre nel vuoto, riconoscendolo nostro a ogni passo. Da Opus Metamorficum, il mio ultimo libro di monologhi per A e B edizione.